Il do-it-yourself, però, nella sua forma più arcaica, ossia non già costruire qualcosa, quanto piuttosto forgiarla nel metallo. Benvenuti, io sono Grizzly, e questo è un nuovo episodio di Deep Dark Diary. C'è chi è abbastanza bravo con il fai-da-te, e magari si mette a fare dei mobiletti o piccoli lavoretti d'artigianato domestico. Ma anche chi, invece, magari è appassionato di metalli e vuole andare un attimo al di sopra del livello del semplice fabbro. I canali YouTube di forgiatura sono nati come una importante costola di tutti quei canali di do-it-yourself, cercando di non solo creare qualche contenuto di intrattenimento, ma anche fisicamente di creare qualcosa di utile o di molto bello da vedersi, quando non di inseguire un qualche traguardo particolare. Come ad esempio l'australiano BigStackD, che tra un grattino ai suoi bulldog francesi e una birra in garage davanti a una gigantesca bandiera dell'Australia, cerca di raggiungere l'obiettivo di una tonnellata di metalli forgiati. Tuttavia, seguire canali di fabbri o forgiatori non è solo un modo di inseguire dei maker che realizzano qualcosa di molto bello o utile, ma anche legato a qualcosa di antico, di atavico. Sto parlando del fascino del fuoco, delle alte temperature, delle scintille, del metallo fuso, risvegliare il nano-Gimli che è nascosto dentro tanti di noi. E infatti, seppur presenti tanti canali che parlano di fusione o di forgiatura a livello educativo, presentando delle tecniche, dei trucchi e cose di questo genere, non sono pochi canali che presentano contenuti quasi a livello di ASMR. Niente narrazione, niente sovraimpressioni, praticamente niente musica, tutto quello che vediamo sono i gesti, e tutto quello che sentiamo sono i rumori, il rumore della forgia che si surriscalda, o magari lo sfrigolio del metallo mentre viene colato, e cose di questo genere. Ciò nonostante, devo ammettere che aver guardato alcuni di questi video per approfondire dell'argomento, mi ha fatto scoprire le differenti tecniche di fusione, di creazione delle leghe e di lavorazione dei metalli. Ivi compresa la colata in sabbia e quella a modello a perdere, ossia la versione moderna della cera persa, dove però si utilizzano polistirolo o alcune resine sintetiche stampabili in 3D. Oppure l'utilizzo di borace o borosilicati per abbassare leggermente la temperatura di fusione generale, è che si devono scaldare anche gli strumenti e le eventuali forme di fusione per evitare incidenti come l'esplosione di vapore. Oltre a varie tecniche, condizioni, pressioni del gas per ottenere più facilmente determinati metalli o determinate leghe, e questo in considerazione comunque lo ribadisco che ci sono anche tantissimi altri contenuti che parlano di fusione o di forgiatura, proprio a livello educativo. Inoltre, in tutto questo discorso non è neanche da sottovalutare l'importante apporto ambientale che si ha in merito al discorso di riciclare e recuperare grandi quantità di metalli che altrimenti finirebbero probabilmente in discarica, e che in questo modo possono venire riutilizzati in maniera funzionale o semplicemente rientrare nel ciclo di produzione e tornare ad essere qualcosa di utile, o banalmente avere un efficiente controvalore economico recuperato dai rifiuti. Infine, comunque non dobbiamo dimenticare che maneggiare metalli fusi può essere pericoloso e portare anche ad incidenti molto gravi, oltre a richiedere spazi, tempi, capacità ed attrezzature non indifferenti. Forse è anche per questo che tantissimi preferiscono guardare questi contenuti anziché provare a mettersi in gioco in prima persona, che è sempre una scelta più funzionale e sicura. Ma adesso tocca a voi, qual è la vostra posizione? Voi seguite dei forgiatori? Siete voi dei forgiatori? Oppure non sapevate che sulla piattaforma esistesse anche questa tipologia di contenuti? Parliamone nei commenti qua sotto! Bene, io sono Grizzly e questo era Deep Dark Diary, il contenitore che ogni ultima domenica del mese ci porta a fare un viaggio nel lato scuro del folklore, della cultura o della tecnologia. Noi ci vediamo al prossimo episodio!